Io faccio così, vedi? Tira qui. È molto più vicino al ginocchio. Ancora di più. Capito? Dai, questo era? Uno. Dai, fai piano. Da uno all'altra parte. Guarda, vieni da qua, da direzione della testa. Tu sai, no, no, rimani in piedi. Tu sai che adesso mettiti più largo. Tu sai che adesso metterai gamba sinistra. Capito? E sai dove? Adesso devi piegare mia testa. No, gamba destra metterla sulla destra. Questa tu devi mettere adesso. Da questa parte però? Sì, no, ma stai così. Sì, insomma, dico. Adesso devi controllarmi, piegare mia testa e passare. Io non vedo cosa succede, vedi? Tu inserisci gamba. Io prendo di gamba, però invece perdo controllo, vedi? Vai. Vai, vai, vai. Tu non cadi indietro. Tu prima di cadere indietro pensi troppo. Devi cadere bene indietro. Vai. Vai, vai, vai. Tu, diciamo, stai pensando troppo. Non che avversario ti cadi proprio come vuoi tu. Tu devi inserisci gamba e vai. All'altra parte. Questa gamba sarà testa. Vedi? Non va. Vai, 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 vai. Gelo, 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 gelo. Come non va? Va. Stop, 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 stop. Molto più vicino alla ginocchia. Vedi? Non va, vai, 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 vai. Vedi? Io so che voglio, io so che cacca voglio fare, vedi? Io sono qui. Tu non c'è un'altra maleta? No. No. Parra. No, sì, te no. Vedi? Hop, sono qui. Hop, spirito. Vengo qui. Hop. Fiuso. Fiuso triangolo. Questa è un'altra maleta? Quando sarai? Anziana. Come me, diciamo, io già sento tutto quello che ho sbagliato. Io non sono anziana, però come sportivo sono già... Vai. Allora, va qua. Vedi, hai fatto uno, due, tre, tre passi. Non devi fare tre passi. Fai tan, 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 tan. Una musica di barabano. Pam, pam, pam. No, fai un salto. E sei in posizione. Di là, di là, un salto ti serve. Avanti. E va. Hop, fine. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Basta inserire più profondo. Inserire più profondo. Ma, devi fare queste cose da subito. Non ti chiamarti quando si chiama. Lo so. Perché sì, in MMA ti mettono un colpo in faccia. Bene, dobbiamo andare in ombra. Lucia. Te. Per te, ma. Dobbiamo andare in ombra. Perché è troppo caldo. Sì. Vai, giriamo. Giriamo. No, 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 non stacca. Così, come si è, giro piano. E' bene. Mi piacciono questi piedi. Che devi fare, perché sono tanto... Adesso ti mostro una tecnica allo stesso, uguale, solo più molto più tempo. Sembra, qui. Possiamo che si vede, no. Sì. Ma. Sembra. Non sembra solo. Sì. Sì.